Questa sarà la legislatura dell'autonomia. Ritengo infatti che sia necessario accelerare l'iter e perseverare fino a che non conseguiranno l'autonomia che la precedente giunta ci ha negato, sfruttando ogni possibilità legislativa che la Costituzione ci concede. Grazie e viva il Piemonte. Buon lavoro a tutti. Stefano Allasia, il nuovo presidente del Consiglio regionale del Piemonte. 44 anni, turinese, già consigliere regionale e parlamentare. Allasia è stato eletto con 33 voti a favore, 15 schede bianche e 3 schede nulle nel corso della seduta di insediamento dei nuovi consiglieri regionali che ha dato il via ufficialmente all'undicesima legislatura della regione Piemonte guidata da Alberto Cirio. Il primo pensiero e le prime parole sono autonomia, autonomia, autonomia. Dobbiamo riallenare le stesse situazioni legislative come Lombardia, Veneto e Emilia Romagna con il Piemonte. Uno dei primi punti che faremo come Consiglio regionale è la discussione in aula dell'autonomia e la rinegoziazione delle competenze che Chiamparino ha strozzato nei cinque anni precedenti. La prima seduta del nuovo Consiglio regionale ha visto anche l'elezione dei due vicepresidenti, confermato Franco Graglia con 31 voti, a cui si aggiunge Mauro Salizzoni con 18 voti. Io ritengo che con l'ufficio di presidenza possa fare molte cose e quindi devo dire che averne la possibilità di continuare anche dei progetti iniziati un anno fa mi fa molto piacere. Non siamo certo di quelli che vogliono impedire le cose se queste sono ben fatte, però ci batteremo perché le cose vengano comunque ben fatte, soprattutto in campo sanitario. I nuovi consiglieri segretari sono Gianluca Gavazza, eletto con 29 voti, Michele Mosca con 28 voti e Giorgio Bertola con 18 voti. L'ufficio di presidenza resterà in carica 30 mesi quando i suoi membri saranno rieleggibili. A chiudere i lavori della seduta di insediamento del Consiglio regionale, l'intervento del presidente del Piemonte Alberto Cirio. La credibilità la si acquisisce con la condotta personale, con quello che ciascuno di noi potrà fare, con il lavoro che in questo Consiglio potremmo fare per la legalità, per ricordare che la legalità è un valore culturale su cui dobbiamo continuare a investire nella nostra regione, ma la credibilità la si acquisisce anche con i rapporti che avremo tra di noi.